A gennaio 2019 verrà dato avvio alla rivoluzione degli assetti societari delle banche di credito cooperativo, come previsto dalla legge 49 del 2016 varate durante il governo Renzi. Le società fornitrici dei servizi informativi, prima soggetti subalterni alle singole banche di credito cooperativo, dal 2019 diventeranno invece capigruppo dei diversi istituti di credito che le sceglieranno, con un modello di gestione diverso trasformandosi in SPA. Una rivoluzione copernicana che potrebbe mettere in discussione l'autonomia delle piccole banche legate al territorio. I soggetti capogruppo avranno ampi poteri, sia sulla conferma di vertici che sulle assemblee dei soci. Oggi abbiamo sentito a riguardo uno dei diretti interessati, il presidente del centroveneto Bassano Banca. Questa perdita di autonomia, che di fatto può esserci, diciamo così, virtualmente, è compensata ampiamente dal fatto che questo modo di fare banca consentirà di essere autonomi, e lo ripeto con forza, in virtù di quanto ogni banca singolarmente sarà in grado di produrre reddito e di avere un conto economico che possa sostenere la realtà stessa. Quindi vanno moltiplicati gli sforzi da parte degli attori in campo, quindi le strutture devono, come dire, moltiplicare le competenze, devono essere in grado di servire bene il territorio, devono produrre reddito, devono dare sicurezze ai nostri clienti, ai nostri soci, e attraverso queste sicurezze e attraverso la solidità della nostra struttura, qui passerà la nostra autonomia.